e dal backstage di una sfilata invece Leonora Rossi Castelli ci parla delle ultime tendenze in passerella a Milano a te allora sì qui siamo nel backstage di Rocco Barocca veramente fervono i preparativi come potete vedere alle mie spalle queste ragazze stanno per salire sulla passerella lo stilista e il suo staff stanno rifinendo gli ultimi dettagli perché la preparazione prima della sfilata è molto lunga allora guardiamo il servizio anche se sciolti con un defetto bagnato comunque non vanno mai davanti al viso con un prodotto un tessuto che sia molto simile a un naturale immagino la donna quando si sveglia passa le mani tra i capelli